La cittadina di Campli da lunedì scorso è un set cinematografico per la realizzazione di un cortometraggio diretto da Maurizio Forcella con la sceneggiatura di Pietro Albino di Pasquale dal titolo Timballo una grande cucina, nel cast Maria Grazia Cucinotta. Devo dire che qui la natura premia. I Camplesi come sono? Basta vedere, anche voi l'avete vista, mi hanno accolto come una di casa. Lei già conosce l'Abruzzo? Beh, l'ho conosciuto, purtroppo nel periodo forse più brutto, però lo conosco poi a tantissimi amici. Le zone più importanti che le sono rimaste nel cuore? Tutte, tutte. L'Italia secondo me è tutta, non c'è un posto dove dici ok, non mi piace, l'Italia è bella tutta. Le parole che ha detto su questo cortometraggio? Le parole mi piace, è un piccolo sogno che si realizza, è un insieme, è un messaggio importante per battere il pregiudizio, perché comunque puntare il dito significa creare violenza e soprattutto per far vedere che comunque attraverso il cibo la gente si unisce, si unisce e poi è la promozione di tutto quello che viene dalla terra, una terra come questa che è dove la natura ancora ti dà il privilegio di mangiare sano. Il piatto preferito abruzzese è il suo? Ma ieri mi hanno fatto mangiare di tutto, devo dire uno no, mi ricordo che c'era tutto un po' fritto ed era buonissimo. L'iniziativa, promossa dall'Associazione Itaca, dall'Officina Azzurra e dalla Bro Company di Napoli è sostenuta dall'amministrazione comunale camplese. Che c'è di più di un cortometraggio per rilanciare Campli che ha dei tesori spesso non conosciuti. Il riserva è arrivata Maria Grazia Cucinotta che è l'attrice principale di questo film, una diva nazionale ma anche internazionale conosciuta in tutto il mondo che crede in questo progetto e sicuramente può essere il viatico, appunto come dicevo, per far conoscere Campli al mondo. Siamo molto onorati della sua presenza e speriamo appunto che ci porti qualcosa di positivo. Questo cortometraggio verrà proiettato a Venezia, Roma, Torino, a Cannes, quindi noi siamo lieti di aver aderito a questa proposta che ci sarà fatta. Il corto, girato interamente nel paese terramano, racconta la storia della cuoca Adelina che ha il sogno di far assaggiare il suo particolare timballo alla conduttrice di un programma televisivo, Maria Grazia Cucinotta. Ci riuscirà grazie a tre idraulici migranti che la aiuteranno inventando una ricetta con nubio tra il piatto tipico terramano e il couscous. Grazie. Grazie. Grazie.